Sì, la traccia, vabbè, e sto rimpogliando, non per indurre, non per rimpogliare. Sì, la traccia, vabbè, e sto rimpogliando, non per rimpogliare, ma non per rimpogliare, non per rimpogliare. Sì. Bene, torno alla possibilità che Allora, sono troppo Finamare in casa Allora, non ci siamo Ho capace Vercase non ci si La storia italiana La storia italiana La storia italiana Grazie. 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 E perchè este musstro? Deve essere un altro. Ma io stai su... Cosa posso... Cosa che non vha. E' scusa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.